... Serie A Lega Calcio a 8, chi perde va giù. Benvenuti dal centro sportivo Sport City in campo all'Italia Calcio contro Emmerz FG Consulting. Contropiede, Mezzetti, Mezzetti messo giù, non c'è fallo, si continua a giocare, fallo di frustrazione di Mezzetti, si va avanti De Michele, largo De Francesco, De Francesco, il tiro è dentro per l'1-0 con il gol di De Francesco. Pasquali, Pasquali il cambio di gioco, Gallo, Gallo mette giù il pallone, il sinistro, la parata provvidenziale di Calca. Salire i compagni, uno spazio, Gallo in mezzo per Leac, il colpo di testa all'uscita precisa. Adesso nel frattempo ha conquistato il pallone gli Emmerz, c'è un altro intervento grandioso di Calca. Dio ci aiuti, Mezzetti, Mezzetti, Mellaro va subito, la conclusione, l'intervento, il tiro, il palo di Leac, colpito, sfortunato l'Emmerz in questa situazione. Pallone Severini, ancora De Francesco, Dio ci aiuti, Mezzetti, De Francesco di porta via, ancora il pallone libera Severini, Severini in mezzo, De Michele, il palo esterno, palla fuori, gol di Murato dall'Italia. Die Emmerz protesta anche Corso dall'aria, Mellaro, Mellaro, pallone messo in mezzo, il colpo di Tacco, tentato dalle H, ancora calcio d'angolo. Pallone messo in mezzo, copertura di Pasquali. De Francesco, De Francesco, ma ancora da sola, ancora sul destro, De Francesco, è dentro, buca i guantoni di Corso per il 2-0 dell'Alitalia. Baggallo, col sinistro, il pallone deviato sotto porta, finalmente il gol degli Emmerz al centesimo tentativo con Leac. Il tempo, le Emmerz a concludere l'azione, in questo momento il risultato non va ancora bene, Mellaro, Pasquali, Pasquali di prima, direttamente in mezzo, il colpo di testa di Leac, pallone ancora sul palo e ancora fuori, sfortunatissimo il numero 9. Pallone schiaffati in calcio d'angolo, si arrecchono ogni probabilità l'ultima azione della partita. Dios ci aiuti, la batte velocemente al centro, manca la presa, il gol all'ultimo secondo di Leac, del 2-2, il gol che vale la salvezza per gli Emmerz. Dios ci aiuti, con questo tipo di Dio, che ci aiuti, la ac removalità è di loro. Dio, che si è interessante diverso, questo... Buongiorno, puoi poco più nelle cose, penso. Tu non ca Ministerti? Inoltre non città qui la risa? Buongiorno, puoiERO? Il чистomeno, ruote è una bambiera dull oppure. Cosa che pagata qua verso. Ilili è un companoco spazionatori,fezohn Italiano si ti esistro o che ti non? Supponso